...ha avuto un figlio che è diventato cardinale, che è sepolto nella chiesa dei dodici apostoli a Roma. Ora sta pensando di trovare da questo cardinale prendere il quizzettino e confrontarlo con le tombe in modo che si potrebbe avere la certezza matematica che quella è l'aria. Voi capite? Allora, insomma, se hai trovato l'aria, insomma, si può confiare la cosa. Siamo contenti noi. Ogni tanto ci scrivono la zuccarella, questo si può dire, ogni tanto ci scrivono la sua zuccarella, che rivolgono nell'aria. C'è l'issabona che ha, non so, 300 anni, non so, quasi c'è, e vogliono pregare sulla tomba della loro cucitalina. Infatti, in quel tempo dicevano, vado a cercare il corpo, ora che l'hanno trovato, è capace che lo vogliono veramente prendere. Eh, in realtà, quello rimane qui, per me, che qua, sai, ma lì la Fondazione Casa di Spermio evidentemente, trovando queste cose, se le tiene lì, l'aria che le farà, eh? Insomma, è una spesa che ha fatto loro. Ma insomma, è un discorso interessante questo, che si può individuare davvero l'aria. Eh? Va bene, voi.